Al prossimo episodio Le meraviglie e la grazia Tua Per contemplare il tuo splendore Mentre adoro te Avvi i miei occhi e fammi vedere Le meraviglie e la grazia Tua Per contemplare il tuo splendore Mentre adoro te 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 Avvi i miei occhi e fammi vedere Mentre adoro te Avvi i miei occhi e fammi vedere Le meraviglie e la grazia Tua Per contemplare il tuo splendore Mentre adoro te Mentre adoro te Mentre adoro te Leggeremo dal verso 10 Fino al verso 13 Ma in modo particolare Ci soffermeremo sul verso 11 Apocalisse Capitolo 3 Dal verso 10 Siccome hai osservato La mia esortazione Alla costanza Anch'io ti preserverò Dall'ora della tentazione Che sta per venire Sul mondo intero Per mettere alla prova Gli abitanti della terra Io vengo presto Tieni fermamente quello che hai Perché nessuno ti tolga la tua corona Chi vince Io lo porrò come colonna Nel tempio del mio Dio Ed egli non ne uscirà mai più Scriverò su di lui Il nome del mio Dio E il nome della città del mio Dio La nuova Gerusalemme Che scende dal cielo Da presso il mio Dio E il mio nuovo nome Chi ha orecchi Ascolti Ciò che lo Spirito Dice alle Chiese Amen Potete accomodarvi Fratelli e sorelle Chiedo ai fratelli di lasciare In modo permanente questo verso Poi leggeremo anche altri versi Ma vogliamo Così fissare nella nostra mente Questa bellissima espressione Di Cristo Che rivolgendosi alla Chiesa Di Filadelfia Dirà questo Io vengo presto Tieni fermamente Quello che hai Perché nessuno Ti tolga La tua corona E questa Una bellissima notizia Amen Io vengo presto Per i credenti Certo È una bellissima notizia Siete d'accordo Fratelli e sorelle Per coloro che non credono Non è certamente Una bella notizia Il ritorno Il secondo ritorno Quindi il ritorno di Cristo La seconda venuta Di Cristo Sarà diversa dalla prima Sarà di grande benedizione Il completamento Dell'opera salvifica Dei credenti Ma ahimè Sarà un giorno Di tremendo giudizio Per tutta L'umanità Ma in questo caso Cristo Vuole Incoraggiare La sua Chiesa Il suo popolo Perché Certo Per noi È questa Una bellissima notizia Quante volte Abbiamo sentito Parlare Del ritorno Di Cristo Ora Noi non vogliamo Farci l'abitudine Nel sentirci dire Che il Signore Sta per tornare Non vogliamo Che sia Quasi un intercalare In una fase Della predicazione Ma ogni volta Che noi Ascoltiamo Del ritorno Di Cristo In modo particolare Questa espressione Diretta Di Cristo Voglio che La facciamo nostra Io vengo presto Io vengo presto È Cristo Che parla È Cristo Che fa la promessa È Lui Che sta dicendo Io vengo Non è Il racconto Di qualche altro È Il Signore È fedele Egli mantiene Le sue promesse E per noi Questo deve essere Motivo davvero Di esultanza Di gioia Il Signore Viene per completare Un'opera gloriosa Il Signore Viene per strapparci Definitivamente Completamente Dalla nostra Vita Terrena Materiale Fatta Piena di Anzie Di prove Di difficoltà Certo Vogliamo riconoscere Anche il valore Dell'opera di Cristo Mentre viviamo Su questa terra Ricordiamo Fratelli e sorelle Che Un tempo Eravamo lontani Da Cristo E non avevamo Speranze E il nostro cuore Era pieno Di pensieri E di paure Per quanto concerne Il nostro futuro Ma adesso La nostra fiducia È tutta nel Signore Il nostro futuro È nelle mani Di Dio Ed Egli sta preparando Un luogo per noi Meraviglioso Benedetto E così Facendo riferimento A qualche espressione Dell'Apostolo Paolo In questa corsa Questa espressione Vengo presto In questa corsa Che noi stiamo Facendo verso il cielo Stiamo arrivando Verso Il traguardo Siamo Siamo In dirittura D'arrivo E Quando si è Verso la fine Della gara Della corsa Ovviamente Rispetto all'inizio E quindi Immaginiamo Gli entusiasmi Le gioie Le meraviglie Iniziali Come Il Signore Si esprime Anche verso la chiesa Di Efeso Il tuo primo amore Certamente Le forze In qualche modo Sono messe Alla prova Il nostro Fisico Il fisico Dell'atleta In modo particolare Nello sprint Finale Lì Si manifesta Il vero valore Dell'atleta Quando Deve dare Il meglio Di sé Pur Avendo situazioni Contrarie Che lavorano Contro La sua La sua Intenzione Insomma Di tagliare Quanto prima Quel traguardo Quindi Le forze Iniziano a venire Meno Si sente La stanchezza C'è Un ritmo Accelerato Del battito Cardiaco C'è Una sudorazione Più intensa L'affanno Il respiro E' vero Fratelli e sorelle Sappiamo Cosa Si prova Fisicamente Dopo Una lunga Corsa Ma Cosa Fa recuperare Delle forze All'atleta Che corre E ormai Davanti a lui Vede il traguardo E' proprio La vista Di quel traguardo E' proprio Il punto D'arrivo Che è davanti A lui E sicuramente Viene a crearsi Nella mente Di quell'atleta Questo pensiero Ancora un piccolo sforzo Pochi passi Sono arrivato Ho raggiunto il traguardo E mi spetta E mi spetta Il premio Il Signore Vuole rassicurarci Perché Nonostante Le prove Le situazioni Difficili Che possiamo Affrontare Nella nostra vita Il Signore Il Signore è colui Che ci guarda Dall'alto Ci parla E ci vuole Incoraggiare Questa mattina Così come Ha incoraggiato Me Attraverso Queste parole Vuole incoraggiare Ciascuno Di noi Io vengo Presto È una notizia Meravigliosa Fratelli e sorelle O forse ci dispiace Lasciare qualcosa Qui su questa terra Niente ha valore Su questa terra Niente potrà Essere minimamente Paragonato Alla gloria Che Dio Sta preparando Per ciascuno Di noi Io vado Innazio a voi A prepararvi Un luogo Affinché Dove sono io Siate anche voi E non offriremo Più Il nostro culto Senza vedere Fisicamente Il Cristo Il Signore Dell'anima nostra Ma quando Lo incontreremo Nell'aria Lo vedremo A faccia a faccia Com'egli è Fratelli e sorelle La sposa Di Cristo Desidera Ardentemente L'arrivo Dello sposo Ma la domanda Il punto è Come prendiamo Questa notizia C'è entusiasma Davvero Forse Quando Ascoltiamo Del ritorno Di Cristo In modo particolare Quando Ci sentiamo Dire Io vengo Presto Forse Pensiamo Alla nostra Casa I nostri Progetti Ai nostri Studi Ai nostri Obiettivi Da raggiungere Forse Iniziamo a pensare A tante altre cose Ricordiamoci Quello Che Gesù Insegnò Ai Suoi Non ci sarà Più Tempo Di correre Né a destra Né a sinistra Non ci sarà Più Tempo Di tornare Indietro Non ci sarà Tempo Di andare A raccimolare Qualche altra Cosa Noi Dovremmo Vivere La nostra Vita Con questa Santa Attesa Pronti A lasciare In ogni momento Della nostra vita Ogni cosa E questo Non deve Produrre Dispiacere Anzi Una gioia Accesa Il nostro cuore Deve vibrare Sapendo che In Cristo Noi Otterremo La completa Redenzione Nel Giorno Del suo Ritorno Quando lo Incontreremo Nell'aria E' scritto Nella parola Del Signore Che noi Rivestiremo L'incorruttibilità Avremo Un corpo Incorruttibile I morti In Cristo Risusciteranno Per prima E noi Lo incontreremo Nell'aria Coloro che Saranno Rimasti Saranno Trasformati In un Batter D'occhio Un corpo Potente Che potrà Vivere Eternamente Senza Disfunzioni Senza Malattie Senza Contaminazioni Non è Meraviglioso Tutto questo Fratelli e Sorelli E sentirci dire Che tutto questo È così Vicino Sicuramente Noi dovremmo Glorificare Ringraziare Il Signore La risposta Della sposa Apocalisse 22 17 Lo spirito E la sposa Dicono Vieni E chi ode Dica Vieni Chi ha sete Venga Chi vuole Prenda In dono Dell'acqua Della vita Cristo E colui Che viene E voglio Anche Sottolineare Questo aspetto Di questo Incontro Vengo Presto E per L'ennesima Volta Ancora Per Ancora In questo Caso È Gesù Che si muove È Gesù Che Lascerà Nuovamente La sua Gloria Il suo Cielo Per venire Incontro A noi È lui Che si muove Non possiamo Immaginare Una scena Del genere Mentre Cristo Se ne sta Nel cielo Sul suo Trono Egli si aspetta Che in qualche Modo Noi facciamo Qualche passo Per aggiungerlo È lui Che ci viene Incontro Io Vengo Presto Ed è scritto Nella parola Del Signore Nella lettera Tessalonicesi Che Gesù Scenderà Dal cielo E noi Lo incontreremo Nell'aria Sulle nuvole Il Signore È colui Che Si avvicina A noi Il Signore È colui Che ci viene Incontro Il Signore È colui Che viene A prendere La sua Sposa Una sposa Adorna Pronta Per essere Definitivamente Moglie Di suo Marito E noi Vogliamo Benedire Il nome Del Signore Perché Cristo È colui Che è Vicino E si sta Avvicinando A noi Tieni Fermamente Quello Che hai E questo È questo È questa L'esortazione Il consiglio Che Cristo Dà Alla Sua Sposa La Chiesa Tieni Fermamente Quello Che hai E cosa Cosa abbiamo Fratelli E sorelle Siamo Consapevoli Di quello Che abbiamo Siamo Consapevoli Di ciò Che Cristo Ci ha Donato Oltre A possedere Forse Un'auto Una Casa Una Moglie Dei figli Una Famiglia Dei Genitori A possedere Delle cose E Benedetto Sia il Signore Per ogni Suo Dono E per ogni Suo Beneficio Cosa Di gran lunga Maggiore Più Grande Noi abbiamo Ricevuto La grazia Di Dio Abbiamo Ricevuto Il dono Della vita La salvezza Tieni Fermamente Quello Che hai Il Signore Ci ha Donato Il suo Spirito Che ha Vivificato Il nostro Spirito Che un Tempo Era morto Nei Falli E Nei Peccati Quanta Abbondanza Abbiamo Ricevuto Dal Signore E Che Privilegio Abbiamo Oggi Di essere Chiamati Figli Dell'I Dio Altissimo Di poterlo Chiamare Padre Tieni Fermamente Tieni Gelosamente Non lasciarti Sfuggire Quello Che Hai Ricevuto In Cristo Fratelli E Sorelle Davvero Facciamo In Modo Di Non Essere Presi Dalle Anzi Dai Pensieri O Di Cercare Di Inseguire Dei Sogni Dove Possiamo Così Immaginare Che Arrivando Ad Ottenere Certi Beni Materiali A raggiungere Certi Sogni Noi Finalmente Ci sentiremo Soddisfatti Ci sentiremo Realizzati Noi Troviamo Il Compimento Della Nostra Soddisfazione Quella Piena Il Compimento Della Nostra Vera Realizzazione Nel Dono Della Vita Eterna Allora Scompariranno Dal nostro Cuore Ogni Paura Per quanto Concerne Il Futuro Per quanto Concerne I Pensieri Le Ansie Della Vita Per quanto Concerne Il Problema O Il Dramma Della Morte Cristo Ha Vinto Per Noi Sulla Morte Dov'è Il Dardo Del Nemico Dov'è Il Tuo Dardo Satana In Cristo Abbiamo Ricevuto Tanto E Non Vogliamo Disperdere Quello Che Abbiamo Ricevuto Voglio Leggervi Il Capitolo 4 Della Seconda Lettera Ai Corinzi Perciò Avendo Noi Tale Ministero In virtù Della Misericordia Che Ci è Stata Fatta Non Ci Perdiamo D'animo Al Contrario Abbiamo Rifiutato Gli Intrighi Vergognosi E Non Ci Comportiamo Con Astuzia Né Falsifichiamo La Parola Di Dio Ma Rendendo Pubblica La Verità Raccomandiamo Noi Stessi Alla Coscienza Di Ogni Uomo Davanti A Dio Se Il Nostro Vangelo È Ancora Velato È Velato Per Quelli Che Sono Sulla Via Della Perdizione Per Gli Increduli Ai Quali Il Dio Di Questo Mondo Ha Cecato Le Menti Affinché Non Risplenda Loro La Luce Del Vangelo Della Gloria Di Cristo Che L'immagine Di Dio Noi Infatti Non Predichiamo Noi Stessi Ma Cristo Gesù Quale Signore E Quanto A Noi Ci Dichieriamo Vostri Servi Per Amore Di Gesù Perché Il Dio Che Disse Splende La Luce Fra Le Tenebre E Quello Che Risplendene I Nostri Cuori Per Far Brillare La Luce Della Conoscenza Della Gloria Di Dio Che Rifulge Nel Volto Di Gesù Cristo Ma Noi Abbiamo Questo Tesoro In Vasi Di Terra Affinché Questa Grande Potenza Sia Attribuita A Dio E Non A Noi Noi Siamo Tribolati In Ogni Maniera Ma Non Ridotti All' Estremo Preplessi Ma Non Disperati Perseguitati Ma Non Abbandonati Atterrati Ma Non Uccisi Portiamo Sempre Nel Nostro Corpo La Morte Di Gesù Perché Anche La Vita Di Gesù Si Manifesti Nel Nostro Corpo Infatti Noi Che Viviamo Siamo Sempre Esposti Alla Morte Per Amore Di Gesù Affinché Anche La Vita Di Gesù Si Manifesti Nella Carne Mortale Di Modo Che La Morte Opera In Noi Ma La Vita In Voi Siccome Abbiamo Lo Stesso Spirito Di Fede Secondo Ciò Che Scritto Ho Creduto Perciò Ho Parlato Anche Noi Crediamo Perciò Parliamo Sapendo Che Colui Che Risuscitò Il Signore Gesù Risusciterà Anche Noi Con Gesù E Ci Farà Comparire Con Voi Alla Sua Presenza Tutto Ciò Infatti Avviene Per Voi Affinché La Grazia Che Abbonda Per Mezzo Di Un Numero Maggiore Di Persone Moltiplichi Il Ringraziamento Alla Gloria Di Dio Perciò Non Ci Scoraggiamo Ma Anche Se Il Nostro Uomo Esteriore Si Va Disfacendo Il Nostro Uomo Interiore Si Rinnova Di Giorno In Giorno Perché La Nostra Momentanea Leggera Afflizione Ci Produce Un Sempre Più Grande Smisurato Peso Eterno Di Gloria Mentre Abbiamo Lo Sguardo Intento Non alle Cose Che Si Vedono Ma Quelle Che Non Si Vedono Poiché Le cose Che Si Vedono Sono Per Un Tempo Ma Quelle Che Non Si Vedono Sono Eterne Tieni Fermamente Quello Che Hai Quanta Abbondanza Il Signore Ha Riversato Nella Nostra Vita Sì In Dei Vasi Di Terra Il Contenitore Passatemi Questa Frase Che Non Merita Il Contenuto Anzi Non Ha Nulla A Che Fare Ma Il Signore Ha Voluto Per La Sua Grazia Per Il Dono Ineffabile Che Ha Fatto A Ciascuno Di Noi Per La Sua Misericordia Riversare Le Sue Ricchezze I Suoi Tesori In Dei Vasi Di Terra E Glorie A Dio Ad Alzare Lo Sguardo E A Prestare Davvero Attenzione A Quello Che Il Signore Ci Sta Consigliando Tieni Fermamente Quello Che Hai E Concludo Il Messaggio Con Questa Ultima Espressione Che Troviamo In Questo Verso Undici Nessuno Ti Tolga La Tua Corona Da Questa Affermazione Deduciamo Alcune Cose Molto Importanti Innanzitutto Che Noi Abbiamo Una Corona Amen E Non È In Affitto In Prestito E Tu Va E Tu Va Fratello E Sorella Non Meritiamo Nulla Da Dio Ma Abbiamo Ricevuto Tanto Da Dio La Corona La Corona Della Vita C'è Qualcuno Che Ha Preso Su di Sè Un'altra Corona Affinché Noi Ricevessimo Questa Una Corona Di Spine Una Corona Di Sofferenze Una Corona Di Vituperio Una Corona Di Insulti Una Corona Di Infamia E Egli Si è Spogliato Delle Sue Ricchezze Quando Si fece Uomo Egli Si fece Servo Ubbidiente Fino Alla Fine Si Caricò Dei Nostri Peccati Fu Umiliato E Voglio Ricordare Questi Momenti Leggendo Qualche Verso Che Troviamo Nei Vangeli Giovanni Capitolo 19 Verso 1 2 3 Allora Pilato Prese Gesù E lo Fece Flagellare I Soldati Intrecciata Una Corona Di Spine Gliela Posero Sul Capo E Gli Misero Addosso Un Manto Di Porpora E S'accostavano A Lui E Dicevano Salve Re dei Giudei E lo Schiaffeggiavano Matteo 27 29 E 30 Intrecciata Una Corona Di Spine Gliela Posero Sul Capo E Gli Misero Una Canna Nella Mano Destra E Inginocchiandosi Davanti a Lui Lo Schernivano Dicendo Salve Re dei Giudei E Gli Sputavano Addosso Prendevano La Canna E Gli Percotevano Il Capo Marco 15 19 E Gli Percotevano Il Capo Con Una Canna Gli Sputavano Addosso E Mettendosi In Ginocchio Si prostravano Davanti a Lui Questa Era la Nostra Corona Il Vituperio Un'eterna Infamia Ma Lui si è Caricato Dei Nostri Peccati Lui Si è Fatto Agnello Per 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 Essere Maltrattato E Se Noi Oggi Possiamo Leggere Questa Mattina Insieme Teni Fermamente Quello Che Hai Nessuno Ti Tolga La Corona E Perché Cristo Ce l'ha Conquistata Per Noi Fratelli Sorelle Noi Abbiamo La Vita L'abbiamo Ricevuta Noi Abbiamo Lo Spirito Di Dio Nessuno Ti Tolga Quello Che Hai Già Noi Stiamo Aspettando Questo Momento Glorioso Della Redenzione Del Corpo Ma Tutto Quello Che Dobbiamo Avere Ci è Già Stato Donato Il Nostro Ci Appartiene Avete Notato Questa Espressione Nessuno Ti Tolga La Tua Corona Quanto È Generoso Quanto È Buono Quanto È Misericordioso Il Nostro Signore Dirà L'Apostolo Paolo Ho Combattuto Il Buon Combattimento Ho Finita La Corsa Ho Conservato La Fede Ormai Mi È Riservata La Corona Di Giustizia Che Il Signore Il Giusto Giudice Mi Assegnerà Quel Giorno E Non Solo A Me Ma Anche A Tutti Quelli Che Avranno Amato La Sua Apparizione A Quelli Che Avranno Amato La Sua Apparizione Io Vengo Presto Ci Fa Vibrare Questa Notizia Ci Fa Entusiasmare Ci Fa Dedurre Che È Rimasto Poco Tempo E Questo Poco Tempo Lo Dobbiamo Consacrare Al Signore Che Questo Tempo Va Sfruttato Per Annunziare La Parola Di Cristo Per La Salvezza Degli Uomini Come Diceva L'Apostolo Paolo Non Per Una Soddisfazione Personale Non Per Portare Davanti Al Signore Un elenco Delle cose Buone O belle Che Abbiamo Fatto Per Lui Ma Affinché Si Moltiplichi Il Ringraziamento A Dio Affinché Si Adempia La Sua Volontà La Volontà Di Dio E Che Nessuno Si Perda E Noi Vogliamo In Questi Ultimi Giorni Della Sua Pazienza Adoperarci Più Che Mai Per Il Regno Di Cristo E Ancora Un'ultima Cosa L'Apostolo Paolo Mentre Scrive A Timotio E sta Parlando Di questa Corona Della Corona Di Giustizia Egli afferma Questo Che Il Signore Il Giusto Giudice Mi Assegnerà In Quel Giorno È Il Signore Che Ci Assegna La Sua Corona È Il Signore Che Ci Accoglierà Nel Suo Regno È Il Signore Colui Che Ci Viene Incontro E Noi Lo Incontreremo Nell'aria Non Delegherà Qualcun Altro Non Manderà Degli Degli Angeli Ma In Prima Persona Egli È Colui Che Viene E Noi Lo Incontreremo Fratelli E Sorelle Quanto Privilegios Possiamo Leggere In Questo Semplice Passo Delle Sacre Scritture Ma Che Vogliamo Raccogliere Fermamente Questa Esortazione Io Vengo Presto Tieni Fermamente Quello Che Hai In Modo Che Nessuno Ti Tolga La Tua Corona Vogliamo Alzarci In piedi